Direttore, arriva Sole, un centrale voluto, forte, un suo commento. Sì, è un centrale che abbiamo voluto, volevamo modificare qualcosa noi in quella che era la composizione di quei giocatori in quel ruolo. Abbiamo cercato un giocatore che avesse un po' caratteristiche diverse da quello che avevamo. Sole è un giocatore di muro e di attacco, noi avevamo bisogno di migliorare quello, l'abbiamo cercato quel tipo di giocatore, poi improvvisamente è venuta fuori questa opportunità, l'abbiamo presa al volo e in un giorno abbiamo chiuso.